Selezionare, individuare e lanciare sul mercato le migliori idee in ambito digital ed energy, sia in termini di sviluppo tecnologico che di crescita di mercato, al fine di fornire supporto e accelerazione alle iniziative imprenditoriali innovative. Questo è l'obiettivo di eCube Startup Idea Challenger, iniziativa di Estra SPA, sviluppata in collaborazione con Nana Bianca, che si rivolge alle start-up ma anche a gruppi non ancora costituiti in società di capitale che intendono portare avanti i progetti di sviluppo di prodotto o di servizio di natura informatica o tecnologico-manifatturiera ad alto potenziale innovativo con prospettive di sviluppo commerciale attraverso la rete e il digitale. Mi auguro che siano molti i progetti che la nostra azienda andrà a valutare. Estra è un'azienda ben radicata sul territorio ma che sa coniugare la propria azione con iniziative che guardano all'innovazione, che alzano lo sguardo per competere al meglio nel mercato. Oggi la concorrenza è sempre più importante, non si può fare certo solo sul prezzo ma anche sulla qualità dei servizi offerti e anche sulla capacità di offrire soluzioni innovative. Estra in questo caso sente anche forte la responsabilità sociale perché sostiene iniziative di giovani imprenditori che hanno bisogno di essere accelerate, di essere sostenute e perché no anche dal punto di vista finanziario. Sicuramente staremmo sui nostri argomenti, sulle nostre tematiche, sui nostri business principali. Quest'anno replichiamo l'iniziativa che abbiamo già svolto e realizzato lo scorso anno, i Cube 2018. Come lo scorso anno si basa su tematiche che sono vicine al mondo dell'energia e al mondo di Estra, quindi avremo sicuramente la tematica dell'efficienza energetica, dell'internet delle cose. Ci interessiamo anche di nuovi business, quindi mobilità elettrica, tutto quello che riguarda energia elettrica, anche stoccaggio dell'energia e tutto quello che è mobilità e mobile, che sono settori che sono molto vicini e contigui a quello che facciamo e in cui è possibile sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per i nostri consumatori e per le nostre aziende. Nanna Bianca è il partner sul lato digitale, sul lato dell'innovazione e della tecnologia. È un programma che vuole aprire un canale di dialogo tra le grandi aziende come Estra e le realtà invece emergenti, i nuovi business model, le nuove tecnologie che ci sono a disposizione anche in Italia tramite le start-up.